Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Stanotte ero furbata e ho stendato a prendere il sogno ma ne ero un cavo così ho lasciato la finestra aperta così per lui è stato piantacero si è arrampicato sul grifo sul grifo ma come fa? il solito uomo in nero suppongo no, non gli somigliava nemmeno questa volta era un altro volto un volto da... si è finato sul mio letto l'ho stretto a me la bacia un bacio lungo un bacio... estremo ma è impossibile che tu debba sognare sempre le stesse cose che mi viene un po' di fantasia per favore anch'io che sono di qua no, questa volta non è stato un sogno lui, lo struganiero sconosciuto c'era davvero oh, si c'era e sono stata con l'icefrazza fino all'alba fino all'alba? ma me lo dici così? ma mi dispiace ma se mi dispiace credo a dire sono solo scontorto ma va questo struganiero si avrà saputo dell'arca ecco il nostro non è più un segreto nessuno doveva sapere dell'arca te ne rendi conto? si e adesso cosa faccio io? cosa faccio? eh ecco cosa faccio vado a cercarlo in paese ahah e voglio vedere anzi no vado a suonare le campane perché così lo sapranno tutti eh, che c'è? cosa c'è? cosa c'è? non esiste nessuno nessuno straniero me lo sono diventato io te lo sei montato tu? perché? ma perché speravo che confessandole una cosa talmente grave avrebbe perso la testa e si sarebbe infuriato arrabbiato non lo so nemmeno io cosa volevo da un Silvestro ho peccato mi perdoni mi assolva anzi mi dia una penitenza severa se vera se vera? si ma cosa vuoi che chiede la penitenza? se vera se vera la sai non posso il ventro mi ha perdonata ma preventina certo che ti ho perdonata vieni qui cara vieni 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 qui preventina vieni 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 preventina grazie Grazie a tutti